A Ruvo di Puglia come se fossimo ancora in zona rossa o almeno per quanto riguarda le scuole. Troppi contagi, dice il sindaco, fino al 30 aprile sospesa l'attività didattica in presenza nelle classi seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado e in tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado che si avvarranno pertanto in via esclusiva dell'insegnamento a distanza. Nelle classi prime delle scuole secondarie di primo grado in tutte le classi delle scuole primarie e dell'infanzia trova applicazione la nuova ordinanza del presidente della regione Puglia. È un luogo di, tra virgolette, di assembramento, di riunione che mette insieme i componenti di tanti numeri familiari, di cui la necessità di intervenire e di evitare che in questa situazione le scuole diventino un ulteriore luogo di propagazione del contagio. Non gli unici provvedimenti a Ruvo dove la situazione epidemiologica resta seria. Abbiamo rafforzato le misure di controllo negli esercizi commerciali che anche a seguito appunto del passaggio in zona arancione potranno iniziare, reiniziare la loro attività e quindi ci auguriamo che qui ci sia anche una capacità di rispetto e di contenimento dei possibili contatti. In questo contesto abbiamo anche sollecitato le istituzioni religiose, mi sono interfacciato direttamente con il Vescovo perché ci sia un particolare controllo sia durante le funzioni religiose che all'esterno.